Continua il periodo no del Civitella Roveto, che oggi per impraticabilità del suo campo gioca al Comunale di Capistrello, rimediando la terza sconfitta consecutiva e la seconda con diverse polemiche arbitrali, tanto che Misteriodice oggi ha preferito non lasciare dichiarazioni a fine gara, visto che già si era espresso duramente verso la direzione arbitrale nel dopogara col Pinedo domenica scorsa. Ma passiamo adesso alle immagini del primo tempo. È la Sant'Egidiese essere subito pericolosa con Di Marco, uno dei protagonisti della gara, che serve Mazzella ma Di Girolamo para in due tempi. Sei minuti più tardi ancora Di Marco si accentra e tira e Di Girolamo segue la palla a lato. Al ventunesimo Di Girolamo sbaglia d'indio e Di Marco tenta di approfittarne ma spara alto sulla traversa. Al ventisettesimo ancora Di Marco serve Pietrucci fuori aria che lascia partire un destro e si insacca all'angolino basso dove Di Girolamo non può nulla. 1-0 per la Sant'Egidiese. Al trentacinquesimo alla prima azione il Civitella va subito in gol. Dosantos protegge palla fuori aria e poi serve di nuovo Marangon che sigla il gol dell'1-1. Al quarantunesimo prima protesta del Civitella Roveto. Dosantos serve Crescimben in aria e viene steso. Il secondo intervento ci sembra regolare ma sul primo abbiamo qualche dubbio. Ma adesso passiamo con le immagini al secondo tempo. Il Civitella inizia il secondo tempo con un passo differente dal primo. Al primo minuto Marangon tira e Dosantos cerca di dare la deviazione in porta ma non vi riesce. All'ottavo poi Crescimben e ancora lui ricade di nuovo in aria. Questa volta non ci sembra che ci sia stato un contatto e l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Un minuto più tardi Massimiliano Tuzzi serve Dosantos in profondità che anticipa Falcetelli in uscita. Siglando così il gol del 2-1 per il Civitella Roveto. Al ventiduesimo Di Marco serve in profondità De Rosa che a tu per tu con Di Girolamo non sbaglia. Due a due. Al ventiquattresimo per questo intervento del numero 6 di Pasquale sui censori l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sembrerebbe che il difensore prenda prima la palla ma nonostante le proteste il direttore di gara rimane fermo sulla sua decisione. Assegna il penalty ed espelle Di Pasquale. Sul dischetto poi si presenta Di Marco che prende la rincorsa e infila la palla sotto al setter. Al quarantaquattresimo ancora Di Marco si mangia un gol già fatto di fronte a Di Girolamo. Nel fine gara ci saranno le proteste del Civitella Roveto nei confronti del direttore di gara. Come abbiamo detto già Mister Iodice non ha voluto lasciare dichiarazioni. Quindi ascoltiamo le impressioni di Mister Mazzagatti. Ottima prova della Santigiriesi in un campo difficile come quello del Civitella Roveto. E' una vittoria venuta nel finale meritatissima. Sì, penso che sia stata in primis una gara giocata bene da tutte e due le squadre. Dove difficilmente sui campi di eccellenza magari vediamo queste partite così aperte. con queste giocate così palla a terra. Noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avute. Credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria. Comunque complimenti anche al Civitella Roveto perché penso che anche loro hanno fatto una buonissima gara. Abbiamo vinto noi. Ci prendiamo questa vittoria che nel complesso penso sia stata meritata. Che ci prendiamo questa vittoria. Grazie.